Io penso che bisognerebbe avere molto buon senso e una grande capacità di ascolto. Bisognerebbe fare tutti i tamponi come si era iniziato, diciamo, facendo i tamponi a Montecchio, per tutta quest'area di 50.000 abitanti, a Gradara per la parte alta di Tavuglia e Gabicce e a Pesaro, perché aveva funzionato benissimo, la gente era contenta e ringraziava. Bisognerebbe fare i tamponi anche a tutte le scuole, perché i ragazzi fino a 16 anni non fanno il vaccino e quindi quando riapriranno, spero presto, le scuole come le fabbriche, bisogna, quando c'è un caso, fare tutti i tamponi. E poi bisogna fare i vaccini a tutti e bisogna farli negli ambulatori medici, nelle farmacie, nella casa della salute, nei poliambulatori, diciamo, nelle strutture anche private che collaborano e che gratuitamente magari danno la loro disponibilità per fare i vaccini a tutti, perché si muore, non è che si scherza. No? Quindi dobbiamo cercare di non fare un ragionamento a senso unico solo con un tipo di vaccini. Io credo che noi, se sono inglesi, americani, cinesi, russi, poco ci importa. Il problema è se i vaccini sono efficaci, se li abbiamo sufficienza per fare a tappeto tutti i vaccini a tutta la popolazione. Continuare a portare tutti questi di questo territorio di 150.000 abitanti in un unico luogo a Pesaro è una follia. Io penso che sia una cosa. Io ho fatto, come Presidente dell'Unione dei Comuni, la terza lettera qualche giorno fa all'assessore. Spero che capisca che, insomma, bisogna modificare quattro luoghi in questo comprensorio di 150.000 abitanti. In più, penso che quelli che stanno poco bene bisogna farglielo a domicilio. Se i medici telefonano loro o i laboratori privati o la Casa della Salute, quelli che non lo vogliono fare e dicono che lo vogliono fare, il resto far fare tutto online, le prenotazioni alle persone che un buon 60-70% non sa manco fare o hanno un figlio o hanno un nipote. Creiamo solo i problemi. Insomma, i problemi dobbiamo risolverli, non crearli.